Quasi due mesi per un materasso antidecubito è ancora nulla. Ad attendere una risposta è in merito alla famiglia di una 97enne retina residente in città. La donna è costretta a letto per età e condizioni di salute. La famiglia ha inviato la richiesta di materasso e sponde. La mail è stata correttamente indirizzata all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio protesi e ausili della ASL. Una prima richiesta è inviata lo scorso 11 aprile corredata dalla richiesta del medico e poi il 18 in integrazione. Il 20 aprile arriva la prima risposta. La sua richiesta è stata presa in carico. Poi un'altra il 10 di maggio provvediamo tempestivamente ad inoltrare sollecito di consegna ma letto e sponde non arrivano. Passano altri giorni, il 30 maggio, il terzo sollecito da parte della famiglia ma nulla. A contattare la nostra redazione nei giorni scorsi è stato un familiare esasperato dalla situazione. Sono ormai al terzo sollecito, scrive nella sua ultima mail per la consegna di questo benedetto letto per una persona di 97 anni, costretta a letto e con terapie domiciliari. La tempestività di cui parlate nelle vostre mail ha quasi un sapore sarcastico e un tantino di presa in giro. Ma come può un servizio funzionare così male? Si chiede come possono non esserci risposte per situazioni così estreme. La gente fa in tempo a morire, conclude, prima che questa pachidermica macchina burocratica si metta in movimento.